Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Ciao, ciao amiche ed amici Voglio fare questo piccolo vlog Innanzitutto, mi avvicino un po' al microfono Per farvi gli auguri di Natale Di buone feste naturalmente Sono stata un po' assente Perché il mio pc ha avuto un guasto Ho dovuto far cambiare l'hard disk Poi avevo un altro guasto sulla linea Di tutto e di più mi è successo E quindi non ho fatto molti video in questo mese Però ho visto che voi comunque mi avete seguito Anzi vi ringrazio perché siete molto affettuosi nei commenti Mi avete incoraggiato ad andare avanti in questa avventura Quindi per adesso continuo Ora mi allontanerò qualche giorno Perché vado a passare il Natale in Alto Adige I mercatini Come sapete siamo innamorati dell'Alto Adige Specialmente della Vallaurina E Dolomiti anche perché no Quindi farò appena una capatina Ma magari farò sicuramente qualche video direttamente da su Mi porto il mio portatile Così vi faccio vedere qualche bel paesaggio Bene Per adesso vi ringrazio Continuate a seguirmi Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto E condividete i miei video Ciao a tutti Ci vediamo prossimamente Ciao a tutti 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 Ciao a tutti